Eccoci bentornati su GoGames, siamo su Avatar e in questo video andremo a fare un'altra missione Diventare. Ci troviamo esattamente in questo punto dove abbiamo preso l'abilità nello scorso video da questo germoglio di Tarsiu che non ricorderò mai quindi sarà il fiore delle abilità per noi ovviamente e da qui semplicemente apriamo la mappa, mettiamo l'indicatore qui sul quartier generale della resistenza e andiamo a fare un viaggio rapido così risparmiamo tempo e siamo più veloci così da non dover andare a piedi. Entriamo direttamente nel quartier generale una volta entrati andiamo di qua e parliamo con Solek. Sì, sì, va bene. Lasciamo. Fa lunga sta cosa, eh. E andiamo ovviamente a cercare il nostro obiettivo che si trova in quel punto lì, siamo caduti malissimo. Quindi, andiamo di qua. No, devo saltare sopra io. Ed eccoci qui. Qui abbiamo degli indizi da analizzare. Come potete vedere, qui ne abbiamo già due. Quindi possiamo avviare le indagini interagendo su questo altarino e poi collegare l'indizio. Questo è molto molto semplice. Ce ne saranno di un pelino più complessi. Complessi nel senso che ci saranno da collegare più oggetti tra di loro. Niente di difficile, ovviamente. E qui ci dirà di seguire l'odore. Quindi una volta che abbiamo risolto tra virgolette l'enigma dobbiamo seguire questa scia per seguire le tracce, appunto. lo facciamo di qua. Ogni volta lo attiviamo così da non perderci. Andiamo su. Esatto. Noi continuiamo a scalare e andiamo da questa parte. È un po' buio, non si vede una cippa. ci saranno un sacco di scalate da fare. è un po' buio, non si vede una cippa. Noi? 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 Noi, Sotlet? I think Noor's nearby. Maybe you could speak to him about your clan? How it feels? Sotlet? Palm and I are checking in on one of our other camps. It's gone quiet. You sound worried. The sky people continue to spread. You think they found it? Solek. E Solek non c'è più con Solek. Con interferenze. Con interferenze. Qua. E continuiamo a salire da questa parte. Pixie, non fare casino. Scusa. Quando si muove un trattore. Spettacolo, però. Spettacolo, però. Continuiamo ad andare su. Spettacolo, ma mi sono persa un attimo. Spettacolo, ma mi sono persa un attimo. Eh. E direi che abbiamo quasi completato il prologo. Oh. 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 Bellino che sei. Ne avremo uno. È proprio bello da vedere. Eccoci qui. Prologo ufficialmente finito. Siamo finito? Da solo a caccio di casa. E qui abbiamo il tempo proprio contato. Dobbiamo scendere. Quindi. Siamo di qua. Piano. Spostavo al coso? Eccolo. Eccolo lì. Utiliziamo questo. Sì, con calma. C'è un altro lì. Ma è andato lì. Da c'è il tempo però, cioè non è che qui... Un secondo Dobbiamo andare di là La via è giusta Ora Dovamo cercare di scendere senza spezzarci ovviamente le tibie Ok Siamo un po' altini ma Non dovremmo farci troppo male Esatto Perfetto E andiamo di qua Non vi gettate come ho fatto io la prima volta perché vi spezzate le gambe in un attimo Perché la prima volta ho fatto così mi sono buttata Ma non si fa Poi la la Siamo lontani da qualcosa che se si ingrippa Fa malissimo Per l'appunto Ho appena detto Siamo giusti Ma ci insegue? Non ci insegue Perfetto Io salirei sul tronco così E lo sappiamo che abbiamo i punti abilità No infatti non ci possiamo fermare Per questo ho preso il tronco Continuiamo di qua Attenzione Eh mamma mia bro Che dolore Via via Dove evitare di provocarli eh Intanto controlliamo Di essere sulla giusta via Dovremmo arrivare a breve E basta mamma mia Per una freccia in faccia che sta da fare E che cos'è Esagerati Ci mancavano pure loro Eccoci qui Vai Vai Ora però Se ci guardiamo anche la Katzin Non finiamo più Quindi conviene Le schippiamo Che è parecchio lunga Qui possiamo tirare delle trappolone Pichissimo sto coso Molto piccolo Che buttano là Speriamo una lì Un'altra lì Accatiamo questo Fantastico E dovrebbero arrivare ancora In teoria Ma che è già esploso Un po' lontano È andata bene Oh Perché non esploti Non esplote Vabbè Non vedo una cippa È una roba terribile È una roba terribile Eh però Non cominciamo a far Gli antipatici Fermo un po' Fatta ammazzare Oppure tu Un uomo che mira terribile Però Sanno l'altri Esatto Sì Stiamo andando Stiamoci qualche freccia Stiamo Sì Se non ricordo male Dobbiamo andare di qua Esatto Stacchiamo questo Dovrei anche mettere i punti abilità Ma vabbè E andiamo a recuperare Il kit medico Mamma mia Che pro Qui c'è la roba da prendere Sì Entriamo Qui troviamo anche un mitra Yeah Un arcucilazzo D'assalto Arriviamo Con calma Io direi Di saltare allegramente La cutscene Se no Non finiamo più Non mi fanno impazzire Le armi Degli umani Preferisco arco e frecce Quindi per ora Utilizzerò arco e frecce Però poi li proveremo Anche il mitra Però arco e frecce Tutta la vita Insomma Se posso scegliere Preferisco Da qui è pieno di gente Eh Che te lo dico Qua Sta buono Ciccio Allora Se vieni qui Ne possiamo parlare Eh vabbè Eh niente Ho la mira che abbiamo Mamma mia L'ho preso lo stesso Wow Wow Sì Dobbiamo andare giù Vai Ovviamente Andiamo a schifare Anche questo E già siamo andati Lunghissimi Le missioni sono un po' lunghe Però Levando le cazzine Almeno Grande E abbiamo completato Anche Questa quest Perfetto Il clan Aranae Lo vedremo ovviamente Nella prossima puntata E come al solito Giovani Vi ringrazio Per il supporto che ci date Per averci seguito Fino a questo punto E vi do appuntamento Ovviamente Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.